Quasi sempre quando acquistiamo una macchina fotografica ci viene fornita già insieme a quello che viene definito kit lens, ovvero una lente che viene già data insieme al corpo macchina e che è una sorta di tuttofare con cui in teoria dovremmo riuscire a fare un po' di tutto. Nella realtà dei fatti, con la lente kit non riusciamo a fare quasi niente, perché è fatta apposta per essere una lente che performa molto male, in maniera tale che prima o poi siamo costretti a comprarci delle altre ottiche più costose, ma ci lascia anche la libertà di decidere quali sono queste ottiche più costose e quindi ci consente di entrare nel mondo fotografico con una lente che costa poco, quindi senza svenarci subito. Oggi vi dirò in base alla mia esperienza quali sono gli step successivi all'acquisto di un kit lens, ovvero nel momento in cui acquisto la mia prima macchina fotografica con la sua ottica compatibile, quali lenti devo andare a comprare, quali devo comprare per prime per completare il mio parco ottiche. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e come ormai sapete mi occupo di fotografia. Ovviamente tutti quanti da qualche parte dobbiamo cominciare, per cui è capitato anche a me di acquistare la mia prima fotocamera, è capitato anche a me di avere delle lenti kit, mi capita ancora se è per quello, perché per esempio quando ho acquistato Canon EOS R veniva con la lente kit, quindi non avevo la possibilità di comprare solo il corpo, esiste solo il corpo, però in quel momento non c'era disponibile solo il corpo, c'era disponibile solo con la lente kit. Quindi mi ho anche approfittato, perché ho detto io di ottiche nuove per mirrorless non ne ho, prendo questo pacchetto con la lente kit, così comincio a vedere come mi trovo, e quella lente kit la sto ancora usando, perché è quella con cui sto girando in questo momento su Canon EOS R7, quindi la uso ancora. Non è che sono lenti schifose da buttare via, semplicemente sono ottiche che noi non abbiamo scelto, sono ottiche che sono fatte per darci dei risultati standard in una grandissima varietà di situazioni e di contesti diversi. Quindi sono delle ottiche generaliste, sono delle ottiche che dovrebbero performare decentemente quasi sempre, ma che non sono specifiche per niente. Prima di cominciare vi ricordo che spesso e volentieri spezzetto gli argomenti su più puntate per cercare di mantenere i video non troppo lunghi e comunque un po' briosi o un po' interessanti. Per questo motivo vi invito a iscrivervi adesso al canale, in maniera tale che se questo argomento vi è interessato, non rischiate di perdervi eventuali puntate successive che girerò e pubblicherò in seguito. Vado a farvi un paio di esempi, una volta le vecchie entry level venivano con il 18-55, per carità aveva anche dei pregi, però era un'ottica con un'apertura molto scarsa, con un diaframma variabile, quindi quando andavi a zoomare perdevi luce, un'ottica per contro con una nitidezza al centro dignitosa, soprattutto a f8 e f11, e un'ottica che aveva il pregio di costare praticamente niente, quindi era un'ottica con cui tu potevi cominciare a giocare con la tua macchina fotografica, poi se non ti trovavi bene, ti compravi delle altre ottiche e passavi a un livello superiore. I grandissimi contro di queste ottiche sono ovviamente la costruzione, che erano dei giocattoli, non erano delle lenti serie, erano proprio plasticosi, giocattolosi, non avevano una buona apertura, quindi sembra una stupidata, ma per un fotografo dilettante che ha appena cominciato a avere un'ottica così sottoperformante, è molto limitante, perché uno che ha appena cominciato non ha la minima idea di come performa la propria strumentazione, e quindi la userà male, la userà in contesti sbagliati, la userà di notte con poca luce a mano libera, e quindi avere un'ottica che ti penalizza anche, ti può proprio far passare la voglia, perché dici vabbè sono un cane, non riesco a tirar fuori niente, in realtà non riesci a tirar fuori niente, perché hai una strumentazione che non ti aiuta, quello stesso dilettante se avesse avuto in mano un 50mm f1.4, magari quella foto la faceva, faceva male lo stesso perché era un dilettante, sbagliava i parametri, però riusciva quantomeno a portarsi a casa qualcosa, invece con una lente kit fai veramente fatica, la lente kit la puoi usare solo di giorno, e soltanto in determinati contesti. Il diaframma variabile, una cosa che io detesto, e c'è il diaframma variabile sulla lente kit che sto usando adesso, a contesto di studio, io tanto la uso a f5.6 mi pare, quindi non ho questo problema, perché tanto la utilizzo abbastanza chiusa, però è seccante, ogni volta che zoom mi hai da rivedere i parametri, quindi è un'ottica molto molto limitante. C'è anche da dire che nel corso del tempo un pochino sono migliorate queste ottiche, si è passati infatti ad avere delle ottiche kit un pochettino più alte, quella che sto usando io adesso è un'ottica kit, chiamiamola di lusso, ma che poi non è vero, non è di lusso, è semplicemente un'ottica kit più bella di quelle di una volta, questo è il 24-105 f4 7.1, quel 7.1 fa veramente schifo, però la lente ha globalmente una buona nitidezza, un buon contrasto, è una lente che io sto ancora usando, è più leggera della versione f4 che utilizzo in altri contesti, in questo caso a me va benissimo questa lente qui, è meglio rispetto al 18-55 di una volta, è indubbiamente meglio, è pensata per mirrorless, è più moderna, quindi adesso su mirrorless, sui sistemi nuovi, abbiamo le lenti kit, quelle scassone, e poi abbiamo le lenti kit, quelle un po' più belline, infatti questa lente kit te la vendono con Canon EOS R, addirittura con R6, è un po' una follia secondo me, metterti questa lente sulla R6, è veramente un peccato, io non l'avrei fatto, cioè piuttosto fammi comprare il corpo e basta, e dammi la possibilità di scegliere una lente, ma veniamo proprio a questo, ma veniamo proprio a questo, che cosa fare quando ci rendiamo conto che la nostra ottica kit non ci piace, dobbiamo comprarci qualcos'altro, come fare, ed è su questo che ci andiamo a focalizzare oggi, perché cerco di aiutarvi a orientare la scelta, innanzitutto dobbiamo approfittare del periodo in cui stiamo usando la lente kit, perché quando noi stiamo usando la lente kit abbiamo un 18-55, 24-105, cioè in ogni caso, sia che siamo su full frame, sia che siamo su APS-C, abbiamo un'ottica con un range standard, la lente kit è fatta per questo, è fatta per darci un range standard, con cui in teoria possiamo fare un paesaggio, in teoria possiamo fare un ritratto, quindi riusciamo a fare, alla fine se riesci a fare un paesaggio e un ritratto, l'80% del lavoro è fatto, perché quelle due cose lì sono le cose che vengono fatte per la maggior parte dei casi, soprattutto dai dilettanti, quindi prima di sviluppare dei bisogni professionali si fanno quelle cose lì. Approfittiamo del momento in cui abbiamo una lente kit per capire che cosa vogliamo fare, perché se noi ci rendiamo conto che con la lente kit facciamo solo paesaggi, a questo punto la lente che andremo a comprare in aggiunta alla lente kit potrebbe essere un grand'angolo, se invece ci rendiamo conto che facciamo solo ritratto, la lente che andiamo a prendere potrebbe essere un 85mm o un 50mm, in maniera tale che andiamo a essere più incisivi su quello che stavamo già facendo con la lente kit, perché la lente kit ci aiuta a capirla questa cosa. Se noi stiamo usando il 18-55mm, lo usiamo sempre a 18mm, e andiamo a prenderci un 10-18mm magari, che è più grand'angolare, così riusciamo ad avere più margine verso il grand'angolo, se invece lo usiamo sempre a 50mm, andiamo a prenderci un 50mm o un 85mm, così abbiamo più focus e riusciamo a lavorare meglio su quello che stavamo già cercando di fare con la lente kit. È molto importante cercare di capirlo, perché altrimenti compriamo cose a caso, e è sconsigliabile comprare cose a caso, perché questa roba costa, costa tanto ragazzi, quindi bisogna orientare bene la nostra scelta. Se facciamo solo ritratti, prendiamoci una lente da ritratto, se facciamo solo paesaggio, ci prendiamo una lente da paesaggio. Attenzione però, uno potrebbe dire, io mi trovavo tanto bene con la mia lente kit, voglio una cosa analoga ma più figa. C'è anche quello, c'è anche quello perché nel momento in cui noi vogliamo mantenere quel range, quasi certamente esiste un'alternativa più costosa, più professionale, che ti fa tenere più o meno quel range, ma dandoti il diaframma fisso lungo tutta la lunghezza focale disponibile dell'obiettivo, e dandoti magari un trattamento alla fluorite, la lente antiriflesso, una costruzione migliore, la tropicalizzazione, tutti attributi propri di un'ottica professionale, che ovviamente sulla lente kit non troviamo. E quindi per esempio, io potrei passare, anzi io sono passato dal 24-105 STM, sono passato al 24-105 serie L, quindi un'ottica che costa tre volte tanto, e che poi sto usando poco, perché qui sto usando ancora la lente kit. Indubbiamente la serie L è una lente migliore, costa tre volte tanto, performa molto meglio, è più pesante, quindi dobbiamo fare la tara a tutte queste cose. Nel momento in cui vogliamo un'ottica kit più bella, esiste, per esempio io avrei anche potuto prendere, infatti ho la versione F, avrei potuto prendere il 24-70, che è un f2.8, quindi se vogliamo più luce, possiamo andare su una soluzione di quel tipo. Le ottiche zoom professionali esistono, ovviamente stiamo parlando di ottiche che costano un bel po' di più. Nel momento in cui noi andiamo a prendere una lente kit, è una lente dal costo irrisorio, adesso passatemi il termine, perché comunque 500 euro non è tanto irrisorio, però 500 euro è il costo di un'ottica kit di quelle del cavolo, passatemi il termine, e il costo di un'ottica con la stessa lunghezza focale, ma versione professionale, può arrivare sui 2.000-3.000 euro, quindi capite bene che c'è una grossa differenza. Se vuoi l'ottica veramente performante, devi spendere tanto di più. Quindi da un lato è un bene, secondo me, che ti diano l'ottica kit con cui cominciare, perché nel momento in cui cominci, dici, va bene, io adesso mi compro, spendo magari 800 euro per la macchina fotografica, con 1.000 euro mi danno anche l'ottica kit, ho speso 1.000 euro in totale, non mi hanno svenato, non mi hanno svenato, questa è la cosa buona. Se mi dicevano subito, ti becchi l'ottica quella buona, direttamente nel kit, costava 4.000, era un po' pesante, era molto penalizzante, quindi secondo me hanno fatto bene a giocarsela in questo modo. Rimane il fatto che le ottiche kit sono molto penalizzanti, e quindi molto presto succederanno due cose, o abbandoniamo, perché ci rendiamo conto che non funziona, non riusciamo a fare quello che vogliamo, e allora diamo la colpa a noi stessi e la lasciamo lì perché diciamo vabbè sono incapace, non ci riesco, la pianto lì. Se invece andiamo oltre, quindi abbiamo voglia di fare ulteriore danno al nostro portafogli, ci compriamo delle ottiche migliori, magari anche un corpo macchina migliore, per carità, e a quel punto andiamo avanti e orientiamo la nostra scelta in questo modo. È evidente che esistono delle ottiche abbastanza standard, come possono essere le ottiche kit, ma come può essere anche il 50 mm e il 35 mm, e forse anche l'85 mm, che sono 50 mm è lo standard, 35 e 85 sono quelle più vicine, quindi quelle tre lenti lì è un po' la triade per fare le cose standard, diciamo. Quindi se siamo in un range standard che vogliamo mantenere, possiamo andare su quelle tre ottiche lì, e se prendiamo delle ottiche fisse, quindi l'ottica kit è uno zoom, se noi invece prendiamo un'ottica fissa da 35, 50, 85 mm, performerà molto meglio sul suo range rispetto allo stesso range sulla lente kit. 35 mm di un'ottica prime performa molto meglio dell'equivalente 35 mm su un'ottica zoom, soprattutto sull'ottica kit. Quindi nel momento in cui andiamo a prendere un'ottica fissa in compendio, andremo a lavorare molto meglio sulla stessa cosa che magari facevamo prima sull'ottica zoom. Esistono poi degli utilizzi particolari, quindi al di là di questi utilizzi standard da 35, 85 mm, esistono gli ultra grandangoli, come può essere per esempio il 10 mm su APS-C, o come può essere il 14 mm o l'11 mm su full frame, che sono dei grandangoli molto molto ampi che hanno degli utilizzi però particolari a quel punto. Si possono usare per fare paesaggio estremo, si possono usare per fare foto di interni in contesti particolari, però sono lenti molto estreme dall'utilizzo abbastanza particolare e abbastanza raro. Andando ancora a estremizzare ci sono le ottiche Fisheye, che sono ottiche che io possiedo, fatemi sapere se vi interessa in un commento, magari faccio un contenuto proprio su questo, sono delle ottiche molto particolari, per chi non ne avesse mai avuto il piacere di usarne uno, abbiamo il tipico effetto GoPro, dico per farvi capire, non si chiama così però, l'effetto che avremmo se stessimo usando una GoPro, ovvero le linee che curvano, l'orizzonte che curva, le facce tutte distorte, quindi è una lente che ci permette di essere molto creativi perché cambia completamente la prospettiva, è una lente però molto difficile da usare, nel senso che difficilmente si trova una corretta applicazione di quest'ottica, quindi è una lente che si usa solamente in contesti molto particolari e molto specifici a mio parere, ho provato a usarla nei contesti più disparati e i risultati non erano mai soddisfacenti, non dico per me quanto per il cliente, perché comunque quelle prospettive distorte ai clienti non piacciono, il cliente vuole vedere la foto piana con le linee dritte, quella prospettiva così diversa da come siamo abituati a percepirla, distorce la realtà a un punto tale che per creatività nostra può essere divertente, ma se la stiamo usando per lavoro non piace quasi mai. Sul versante opposto abbiamo i supertele invece, abbiamo delle ottiche lunghissime, che anche quelle però sono per un utilizzo molto specifico, quindi evidente che con la lente kit non riusciamo a fotografare lo stambecco a 200 metri, non riusciamo a fotografare la luna magari, con un supertele ecco che riusciamo ad avvicinarci allo stambecco e quindi riusciamo a fare delle belle foto allo stambecco, al pettirosso, alla luna, tutte cose che si fanno con delle lenti che sono già un pochino più specifiche. Abbiamo poi le lenti macro, ancora più specifiche perché in quel caso sono fatte apposta per andare a mettere a fuoco molto da vicino, quindi se io con la lente kit, vedete il mio microfono, se io sono qui con la lente kit e voglio mettere a fuoco il mio microfono, non ci riesco, è troppo vicino e la macchina mi dice che devo andare indietro per mettere a fuoco il microfono e quindi non riesco più a fare una foto macro, invece l'obiettivo macro è fatto per questo, è fatto per permettermi di stare vicino a quello che voglio mettere a fuoco e così riesco a fare dei dettagli molto piccoli di insetti, la moneta, il dettaglio, il quadrante dell'orologio, tutto quello che voglio, riesco a mettere a fuoco stando molto molto vicino al mio soggetto, anche quello è un utilizzo particolare, sono ottiche particolari che si usano quasi solamente per fare quello. Poi adesso stanno venendo fuori delle cose molto molto particolari, abbiamo delle vere e proprie follie, come per esempio il, chissà come si pronuncia, il Laowa 24 mm, è un'ottica che è follia pura, cioè è un obiettivo che sembra un tubo laser, è un obiettivo lunghissimo ed è un macro da 24 mm, quindi tu con un 24 mm puoi però andare a mettere a fuoco a un centimetro di distanza e il fatto che sia così lungo significa che lo puoi infilare dentro in mezzo a delle composizioni e poi fare delle carrellate in cui lo fai sgusciare fuori per dei risultati molto molto belli. Ho visto cose fatte da altri colleghi videomaker e si fanno delle cose veramente pregevoli con lenti come quelle, stanno venendo fuori delle cose veramente molto fantasiose e molto molto fighe. Non ultimo, vi parlo anche delle ottiche cinema, perché ho avuto modo di provarne qualcuna di recente, le ottiche cinema sono molto molto belle, sono delle ottiche manuali, quindi diaframma manuale e messa a fuoco manuale, perché nel cinema si fa così punto, poi ci può essere il focus puller, ci possono essere tutti dei meccanismi a parte, però l'ottica in sé è manuale, perché si usa così e sono delle ottiche dedicate anche quelle, cioè non è un'ottica con cui vai in giro a fare fotografie durante le vacanze, lo puoi fare, però diventa un po' un po' proibitivo, sono delle ottiche che usate per fare video, ti danno un look comunque molto bello cinematografico, usate per fare foto, ti fanno tornare un po' indietro al piacere di mettere a fuoco manualmente e al piacere di sentire tic 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 i rintocchi della ghiera del diaframma quando vai a modificare i diaframmi, possono essere molto belle e molto soddisfacenti anche se sono la maggior parte delle volte sono di metallo, sono molto pesanti, molto ingombranti, quindi non sono agevoli. È una possibilità anche quella perché se uno vuole quel tipo di look cinematografico e se vuole un'ottica dedicata, magari un'ottica anamorfica, ecco ci sono poi le ottiche anamorfiche che hanno un sistema di cattura delle immagini che è completamente diverso rispetto a quello che noi siamo abituati a realizzare con le nostre fotocamere e invece è molto frequente che vengano usate nel cinema. Quando vedete nel cinema vedete quei film con tutti quei riflessi davanti, quei flare che ci passano davanti quando c'è una retroilluminazione, quelle sono la maggior parte delle volte invece magari a volte sono fatte in post, però la maggior parte delle volte sono ottiche anamorfiche che performano in quel modo. Sono molto belle, anche quelle sono ottiche specifiche, servono a fare quella roba lì, quindi io sconsiglio di comprare un'ottica anamorfica come prima lente dopo la lente kit, sono tutti utilizzi molto specifici. Quindi, vista tutta questa panoramica di lenti, secondo me la cosa migliore quando abbiamo la lente kit è usare la lente kit per capire in che direzione vogliamo andare, capire che tipo di fotografie vogliamo fare e quindi che tipo di lente ci potrà servire. Difficilmente sarà un'ottica specifica, difficilmente sarà un'ottica specializzata su qualcosa. Ovvio che se volevamo fare macro fin dall'inizio, volevamo fare insetti, lì sì andiamo su una lente specifica, se volevamo fare bird watching anche lì andiamo su una lente specifica. Se invece vogliamo continuare a fare un uso generico ma abbiamo un chiaro indirizzo, per esempio io so che voglio fare paesaggio, non ho delle esigenze specifiche, voglio solo fare paesaggio, allora il 18-55 mi sta stretto mi prendo il 10-18 così ho più grand'angolo, rimango con il 18 ma ho più spazio sul lato del grand'angolo, questo mi aiuterà a comporre i miei paesaggi includendone una porzione maggiore con un angolo di campo maggiore, viceversa sto facendo il pettirosso sull'albero e col 55 faccio fatica, mi prendo un 200 mm un 300 mm anche e probabilmente riuscirò ad avvicinarmi di più, farò delle foto migliori disturbando di meno il mio piccolo amico pennuto che non si spaventerà perché io starò lontano non dovrò più avvicinarmi per beccarlo e così mi sono avvicinato a quello che era il mio obiettivo finale. Poi come detto molti di noi si appassionano a più cose e vogliono fare più cose quindi lì ragazzi purtroppo non ce n'è, lì bisogna fare delle scelte, bisogna dare un ordine di priorità alle cose, facciamo soprattutto ritratti e ci prendiamo l'85 mm per fare i ritratti e il paesaggio aspetterà un bel momento decidiamo che è arrivato il momento di fare un altro acquisto e ci prendiamo anche qualcosa per fare il paesaggio e così pian piano costruiamo tutto e pian piano che costruiamo però impariamo da quello che abbiamo comprato quindi impariamo le differenze tra un'ottica prime magari tra un 85 mm 1.4 e la nostra lente kit impariamo quali sono le differenze cominciamo a vedere per contrasto com'è lavorare con una e lavorare con un'altra e la prossima volta che facciamo un acquisto siamo più consapevoli perché ci rendiamo conto delle differenze che abbiamo riscontrato diciamo ok quindi adesso io ho preso questo pezzo e ho aggiunto questa roba in più ma se io adesso compro quest'altra cosa quindi che cosa aggiungo e pian piano vai a costruire quello che poi sarà il tuo setup finale le lenti che utilizzerai da cui probabilmente la lente kit un bel momento verrà tirata via perché il momento che hai delle ottiche dedicate per le varie cose sono meglio quelle della lente kit vero anche che molti preferiscono continuare a usare la lente kit evoluta quindi magari ci si prende la lente kit di serie L e quello è un tuttofare che andrà bene per sempre quindi dipende proprio da che cosa si sta facendo e vi dico per esempio che io sono uno da lente kit io sono uno che di solito utilizza la lente zoom di solito utilizzo il 2470 o il 24105 perché? perché di solito io faccio fotografia o video corporate il mio cliente non vuole lo sfondo sfocato non gliene frega niente il mio cliente vuole che sia a fuoco perché si deve vedere il prodotto si devono vedere le persone si devono vedere gli ambienti il mio cliente non vuole mai lo sfocato quindi per me un 50mm f1.2 non ha senso non lo comprerò mai perché nessuno me lo chiede quindi spendere 3200 euro così tanto per evito anche vado a utilizzare quello che mi chiedono invece mi chiedono versatilità perché nel corso di una sessione foto video io devo poter fare di tutto devo poter fare una roba piccola così e devo poter fare un ambiente intero e quindi mi serve una lente che mi consenta di farlo agevolmente non ho voglia di cambiare tutto il setup ogni volta perché poi i clienti ti tirano per la manica ti dicono adesso mi fotografi questo microfono da vicino ok vai bravo bravo adesso mi fai tutta la stanza dici ma come non possiamo fare tutti i prodotti prima e poi tutte le stanze almeno no no ogni stanza mi fai prima quella e poi quella devi avere una lente zoom quando lavori in questi contesti devi avere una lente zoom oppure due corpi macchina con due lenti perché sennò diventi matto però queste sono cose che si vedono nel tempo che si costruiscono nel tempo quindi io sconsiglio di fare acquisti tanto per non andiamo a comprare le cose tanto per dire ho preso l'85 ho preso l'85 ho preso il 50 adesso prendo il 100 il 200 prendo il fishe no non andiamo a comprare cose a caso andiamo a comprare quello che ci serve andiamo a dire ok faccio fatica a fare questa cosa mi compro una roba che mi aiuta non riesco a catturare queste immagini in questo modo compro qualcosa che mi permetta di catturare queste immagini come la voglio andiamo a fare degli acquisti dove ci serve non tanto per perché costa questa roba quindi compriamo quando ci sorge un bisogno e il bisogno secondo me ci sorge proprio usando la lente kit quindi usando la lente kit ci rendiamo conto e diciamo ma come con 18 mm il Grand Canyon non riesco a prenderlo intero vuol dire che mi serve più grand'angolo oppure viceversa cavolo col 50 mm non riesco a fotografare lo stand back vuol dire che mi serve più tele in questo modo partendo dalla nostra esigenza costruiamo un parco ottiche con cui ci troveremo bene e con cui riusciremo a catturare le immagini che vogliamo io non mi dilungo oltre spero di avervi dato una buona indicazione per costruire il vostro setup partendo da una lente kit con cui difficilmente saremo soddisfatti ma da cui poi possiamo andare a costruire la nostra soddisfazione dollaro su dollaro andando a comprarci le ottiche stracostose che tutti quanti desideriamo amici io vi ricordo che se questo tipo di argomenti vi interessano potete sostenere il canale semplicemente iscrivendovi cliccando il bottone rosso qui sotto e attivando anche la campanella i like al video non fanno mai schifo così come i commenti se avete domande vi aspetto nei commenti e vi risponderò con dei video brevi se la domanda merita se hai una domanda con le risposte sì o no vi risponderò semplicemente nei commenti datemi un po' di tempo perché state diventando tanti e quindi faccio fatica a stare dietro a tutti rispondo ma ci metto un po' di tempo con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale